Ecco, ci sono sempre i marò, ormai è ciclico che si parli di questo sconcio, di questo scandalo all'italiana, così il governo Monti cambiò idea sui marò, perché il governo Monti non li voleva rimandare indietro, non li voleva restituire all'India, no. Poi però, devo leggere per non commettere errori, qualche ministro si stava agitando freneticamente perché temeva per gli interessi economici in India e riteneva che i due marò dovessero essere rispediti indietro immediatamente, altrimenti avremmo perso soldi. Cosa volete che gliene fregasse a quel ministro del governo di questa nazione di due servitori dello Stato, che erano stati mandati lì dal governo, dallo Stato? E solo un ministro, poi facendo anche una figuretta, insomma, si dimise un giorno prima che cadesse il governo, ma gli altri, d'accordo, insistettero perché tornassero indietro. Certo. Questo fa il paio con un'altra cosa che succede. Ve lo ricordate quando qualcuno disse a Capitan Schettino, noto, coraggioso capitano, della Concordia, Costa Concordia, torni a bordo BIP. Ecco, l'ufficiale della Capitaneria di Porto, De Falco, di Livorno, in questo contesto, in questo momento, dopo anni di servizio operativo è stato trasferito a contare fogli di carta. Ora, non discuto nel merito, ma tu che sei un premier che fa informazione moderna e che fa le slide, non hai pensato all'opportunità, alla ricaduta che avrebbe avuto questo normale trasferimento in questo specifico caso? Ma lascialo lì. Ma cosa ti interessa? Vuoi dare il segnale che in qualche modo lo vuoi punire perché ha detto a un vigliacco, torna a bordo immediatamente? No. Allora non fare nemmeno, non dare nemmeno l'idea che ciò possa avvenire. Questo fa una politica intelligente, questo fa una politica seria. Ma dov'è la politica seria?